Il sovraffollamento dei reparti di geriatria e medicina dell'ospedale Santo Spirito di Pescara paralizza temporaneamente il pronto soccorso causando la sospensione delle prestazioni di area medico-geriatrica a causa del blocco dei ricoveri nei rispettivi reparti. Ma entro domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità, secondo quanto annunciato dal professore Alberto Albani, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'ASL di Pescara. È un problema legato al sovraffollamento di personale interno del pronto soccorso in quanto i reparti di area medica, mi riferisco specificamente alla medicina e alla geriatria, hanno dei posti letto completamente occupati, non riescono a fare un numero di dimissioni adeguato rispetto a quello che sono invece i ricoveri, per cui si è creato questo squilibrio in questa bilancia fra ingressi e uscite, per cui si sono accumulate negli ultimi giorni parecchi pazienti all'interno del pronto soccorso che non trovano accesso ai reparti. Questo sovraffollamento ha creato dei problemi per quanto riguarda la possibilità di trasmettere il Covid in tante persone in spazi ristretti, per cui è venuto opportuno chiudere l'accesso alle ambulanze per quanto riguarda patologie mediche e geriatri e dirottarle su altri ospedali. Chiaramente, e questo ci tengo a precisare, tutte le patologie di emergenza urgenza sono garantite, sono garantite tutte le patologie tempodipendenti, tutti i politraumi, cioè l'emergenza urgenza viene garantita in ogni caso, così come abbiamo sempre fatto all'ospedale di Pescara. Solo per 48 ore abbiamo limitato l'accesso alle ambulanze per quanto riguarda le patologie medico-internistiche, cioè quelle più semplici, di più basso impatto, perché non siamo in grado in questo momento di gestire un così alto numero di pazienti. Quindi a partire da domani, scadute queste 48 ore, diciamo, dovrebbe ritornare alla normalità la situazione? Sì, noi ci auguriamo che tra oggi e domani, dando possibilità ai reparti di fare questi ricoveri, di poter ridurre la presenza di persone in termini del pronto soccorso e quindi ricominciare in piena attività. A pello ai cittadini, quindi qual è, professore? Il mio motto è aiutateci ad aiutarvi, cioè nel senso rivolgetemi al nostro pronto soccorso esclusivamente per patologie importanti, severe e per tutto ciò che riguarda invece quelle che sono le normali patologie di stagione, di rivolgersi ai medici di medicina generale, in caso poi vengono i bambini pediatri libera scelta, consultori, in maniera tale da poter decongestionare il pronto soccorso e rendere veramente più efficienti e efficaci per chi sta veramente male. Sul fronte pandemico qual è la situazione? Attualmente abbiamo un numero di positivi non significativo ma in crescita lenta, ma c'è. quasi tutti asintomatici, molti sono anche vaccinati ma sono completamente asintomatici. L'impatto sull'ospedale è attualmente basso, cioè in tutta la regione Abruzzo ci sono oggi soltanto 10 persone in terapia intensiva, quasi tutti non vaccinati e circa 100 persone ricoverate in tutti gli ospedali per patologia Covid. Anche qui predominano i non vaccinati. Questo ci fa ben sperare di passare delle serene vacanze di Natale, è legato proprio all'alto numero di vaccinati che è presente l'Abruzzo. Dobbiamo continuare a fare le terze dosi, recuperare quei no-vax che finora hanno resistito alla vaccinazione e soprattutto continuare a mantenere il distanziamento sociale e mascherine. Cioè è importantissimo continuare a usare le mascherine soprattutto nei luoghi di sovraffollamento, nei luoghi chiusi perché è l'unico sistema che abbiamo per non far circolare il virus.